11 sindaci, 40 amministratori e 56 rappresentanti della società civile si sono riuniti a Termoli per Molise sia. Con quale obiettivo? L'obiettivo è sicuramente avviare un tavolo di confronto, condivisione e di dialogo, sia da un punto di vista formativo ma anche da un punto di vista operativo. Dopo gli interventi dei nostri relatori, che ci aiuteranno a fare anche un po' un'analisi del contesto molisano, cercheremo di lavorare concretamente e progettare quello che presenteremo come manifesto di sviluppo locale del Basso Molise. Dall'intervento del professor Luigi Mastronardi sono emerse serie criticità, dall'impennata dei tassi di soccupazione allo spopolamento, passando per la frenata brusca dello sviluppo rurale e produttivo. Ma anche messaggi di speranza per una regione che, prima della crisi, vantava altissimi tassi di imprenditorialità, così come ha ricordato il segretario del Censis Giorgio De Rita. Una regione che ha ancora tanto da dare, insomma. Ma come? I tre vertici del triangolo magico di cui consta ogni società devono fra di loro interagire per definire le priorità degli interventi sul territorio e, in secondo luogo, per definire le modalità di gestione degli interventi stessi. In questo senso, il cosiddetto mondo dell'associazionismo, della Chiesa, eccetera, perché dà un contributo fondamentale? Perché porta conoscenza, ma non solo, porta capacità di innovazione sociale. E perché ci sia innovazione sociale, ha munito il professor Luigi Nobruni, bisogna evitare che la meritocrazia diventi la legittimazione morale delle disuguaglianze, cosa che finora non è avvenuta, per la diffusione su scala globale di inique teorie neoliberiste. Uno degli effetti perversi del processo di globalizzazione da un lato e di finanziarizzazione di economia dall'altro è proprio la subordinazione della democrazia rispetto alle esigenze della crescita economica. Questo è un dato di fatto. Chi lo nega è un impostore. I neoliberisti sono stati bravi perché sono riusciti a convincere larghi strati della popolazione che dare all'economia le redini del progresso di una comunità avrebbe risolto tutti i problemi. Invece non è vero. E la politica deve tornare, come dice Papa Francesco, a essere declinata con la P maiuscola per significare una politica alimentata da un pensiero pensante. Non basta il pensiero calcolante. Per tornare a fare politica con la P maiuscola, Molise Sia lancerà a breve una scuola di economia civile. L'obiettivo concreto per il prossimo anno è questa scuola di economia civile che è un luogo di formazione importantissimo con un livello scientifico alto. È un'afferta che noi facciamo a tutti gli amministratori e soprattutto ai giovani che hanno intenzione in futuro di impegnarsi in politica attivamente. Prima di questa scuola di economia civile noi chiaramente pubblicheremo gli atti di questa giornata, rimetteremo appunto le sintesi, puntualizzeremo alcuni aspetti e a settembre rivivremo un'altra mezza giornata di lavoro insieme con gli amministratori e con gli imprenditori.